Dopo due giorni di riposo riprendono gli allenamenti della Battipaiese. In seguito al ritiro di San Gregorio Magno, terminato sabato, le zebrette tornano tra le muramiche e si alleneranno ogni giorno a partire dalle 17 allo stadio comunale Luigi Pastena, in vista della prossima amichevole di sabato. Nel frattempo sono stati ufficializzati i gironi di Coppa Italia. La Battipaiese giocherà nel primo weekend di settembre in trasferta contro la polisportiva Santa Maria. Le differenze tra l'anno scorso e quest'anno sono evidenti. L'anno scorso sono andato gli ultimi due mesi in prima squadra, era un ottimo gruppo però non come quest'anno. Quest'anno siamo tutti ragazzi giovani, siamo uniti, ci vogliamo bene tra di noi, si è formato un bel legame tra di noi. Francesco tu sei entrato nel secondo tempo, hai fatto anche gol contro la Gregoriana. Sì, è stata una bella emozione segnare e spero di avere la possibilità di giocare in campionato e farli pure in campionato. Cosa provi prima di entrare in campo? Prima di entrare in campo provo emozioni, ansia, tante di quelle cose, descrivibile. Allora Francesco, quanto è importante per te, essendo di Battipaia, indossare la maglia bianconera? Essendo di Battipaia, indossare la casacca bianconera è una grande esperienza. Essendo di Battipaia è una grande emozione giocare con i colori della mia città. Poi sono contento perché comunque gioco con la casacca della mia città.